Ciao a tutti ragazzi, bentornati su un nuovo video di Rainbow Six Siege sul terzo episodio della Road to Jackal come vedete stiamo a una mappa aereo presidenziale che comunque è una buonissima mappa perché io qui mi prendo a gluzz e cerco di uccidere i nemici da fuori me lo prendo io il disinnescatore, anzi no, lo lascio perché sono gluzz siamo su un TDM artificieri e vi volevo dire che sto a circa 16.000 monete cioè se vengo questa qua dovrei andare a 16.100 mi pare quindi speriamo di vincerla, almeno così Jackal quello lì lo prenderemo comunque ho visto in queste partite che mi sono fatto off camera cioè che non ho registrato, Jackal è davvero forte andiamo a vedere i coltroni dove si trovano speriamo che si trovano sopra è così e vai, si trovano qui cerchiamo di fargli il giro ragazzi se oggi non parlo come le altre volte è perché lo sapete perché mi devo concentrare un po' e niente oggi sul canale è anche uscito un video di FIFA Mobile no scusate, ieri è uscito oggi l'ho registrato uno e lo farò riuscire domani intanto guardate quanti punti sto facendo zitto zitto ok no dall'altra parte stanno che ho messo il silenziale spero che funzioni ancora che spacchi i vetri dell'aereo presidenziale mmm no già la miseria c'è no no ramegg che caso ah l'ho visto l'ho visto lo sto ricaricando diciamo che c'è un po' e anche i vi ho vedo che vedo fino a quando si arriva bene quando oh morirà e farà si ragazzi manco me lo vedi io qui me lo devo sbrigare perché spero che non ho nel C4 bomba individuata 12 secondi non operatore alleato rimasto rimangono 10 secondi ragazzi l'avevo preso io col cartello vabbè comunque avevamo perso perché il tempo era scaduto questa azione qui che ho fatto ora non mi è piaciuta tanto perché comunque la devo sbrigare prima però non fa niente perché pure gli amici miei sono stati cioè gli amici miei i compagni miei di squadra non sono stati davvero utili diciamo qui mi metterei mute perché pure nelle partite off camera lo sto ritualizzando e mi sta piacendo perché comunque ci riesco a fare sempre 3-4 kg a partita mettiamoci in qui vai senza riunioni spero che voi non sentite l'audio ma no mi pare di no perché comunque sto registrando tutto quando l'audio no no ok qui metto mute ah mute mettetelo sempre dietro a un muro tipo così almeno così se deve entrare twitch se casomai hanno twitch non la può distruggere che già è stata come posto di gemmata no no per gemmata ah ho sbagliato ecco vai comunque vi voglio ringraziare dei 55 iscritti che comunque sono è un bel traguardo per me perché comunque 55 iscritti non me lo sarei mai aspettato subito poi e qui non so come fare perché tanto ci avranno i lazzi sicuro cerco di lasciarli eh ho detto che avevano i lazzi mettiamo una qua pure se non serve molto cioè non serve affatto però qui non posso salire sul divanetto spacco i rabbi no non posso salire si vai 3 contro 5 la classe se ne ha fatti 2 ho detto non vi sporgere dai finestre la posizione mia è stata scoperta è colpa di giacolo questo grazie a voi mamma mia ragazzi 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 me ne sono fatto tre vai mi era venuto un colpo perché comunque non me l'aspettavo che uscisse così ok dalle delle camere non ti riesce a vedere proprio niente buona no ragazzi l'avete visto l'ho preso pure in testa mi potevo fare full team se facevo quest'ultima uccisione perché comunque quell'altro se ne era andato quindi non valeva cioè avete visto ragazzi no vabbè va bene secondo round di vinda dai abbiamo vinda in difesa ho detto mute è servito molto in difesa questa volta non mi voglio prendere glazzare infatti già sono presi ma vorrei prendermi sono indeciso fra ash sledge blackbird ok asciuto la soppia blackbird facciamo blackbird va che è un po' meglio mettiamoli a caso qua i disinescatori vorrei prendere io però non voglio prendere qui vi metto un po' per caricarsi perché è appena entrato questo qui che si chiama hauteyaka 47 intanto vi do delle notizie di vm mobile che ora ci sto entrando un attimo cioè ci sto entrando sta alla schermata principale oh subito 5 contro 2 attenzione buonissima che partita buggata che sta qua non si sa cosa sta succedendo in questa partita 5 contro 2 subito nemmeno abbiamo iniziato il round vai mettiamoci qua sopra vi voglio dire su fiume mobile ho 50 giocatori del bpl e 4 oggettoni io non so come fare a prendere i oggettoni però solamente 4 oggettoni non vedi no non ci andremo citi sul rainbow ho fatto bene a prendermi blackbird almeno così è andata sotto io vado di prepotenza con blackbird vai almeno questi qua non vanno pure a sponghiere almeno così muoio mettiamoli qua dietro Ah, che horror Mi sono tolto davvero tanto, cioè mi sono fatto male da solo Ah, mio male Ragazzi, sono primo con 4 uccisioni, 1 assist e 2 morti Direi che è buono, dai Qui io non mi prendo un'altra volta mute Sono deciso fra smoke e pulse Prendiamoci pulse con la mitragliatrice Che col pombo No, perché artificieri Mi viene difficile usare il pombo Dunque stavo rivalutando Ecco pure un sacco forte Allora, in attacco ho detto Mi prenderò juggle, infatti questa qua è la ruota du juggle In difesa, non so, consigliatemi qui sotto nei commenti In difesa a quelli là che mi mancano sono Valkyrie, Ego Valkyrie, Ego E basta, sì, Valkyrie, Ego Mi pare Però sto diciamo, mira ce l'ho Il cavera ce l'ho, sì Mira Ego Più vabbè, gli operatori nuovi di Hong Kong Che non so se li metteranno oppure no Cioè, non riesco a capire Perché prima hanno detto che li posti ci fanno Poi hanno detto che escono ad agosto Quindi non saprei Oggi, mi pare, oggi Stasera ci debba stare il aggiornamento di Rainbow Della nuova operazione Health E qua, però, se hanno Ah, io ragazzi vorrei fare tipo una cosa In giunta mi è successo Stato a giocare con gli amici miei Col team Eccoli Uno fatto Assecco Assecco Grazie. 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 Perfetto ragazzi. Round vindo. Direi merito mio dai. Sì me lo posso dire perché ho fatto tre uccisioni e l'ho rotto a disinnescatore. Questa partita sto giocando bene e sono contento dai. Attacchiamo dai. Qui in attacco non so chi prenderà meglio sinceramente. Io vorrei andare con Ash. Prima non me la sono presa Ash quindi ora me la prendo. Ragazzi stavo vedendo che uno youtuber che si chiama Jax mi ha risposto al. Ma mi ha trovato una droga. Mi ha risposto su youtube. Ok non niente. Sì sono morto già con il drone però dai guardate il lato positivo. Stavo vedendo le statistiche. 1.800 punti. Andiamo. Gli entriamo da sotto. Cioè gli entriamo come abbiamo fatto prima con Blackbird però con Blackbird ne abbiamo concluso quasi niente. Allora lì vedo già che c'è del fino spinato che mi sta aspettando. Adesso ande guarda. No rendono presa il figlio spinato. Ma da dove? Ma da dove? Ragazzo trova una bomba. Un attimo dove devo abbassare che si sente un po' troppo. Ok. Ora dovresti cioè se non mi sentite non fa niente. Aia. Sì vai ci ha fatto tutti quanti sì. Sì. Buona. Lo scudo. Lo scudo. Ragazzi ho fatto così un attimo. Peccato. Ho fatto così se no da dove non mi sentite vado. Giusto? Qui mi prendo smoke. E andiamo a stivare a Blackbird. Prima di vincere almeno questo round. Almeno così. Ci prendiamo un po' dei crediti. Ok ragazzi. Sì ho fatto. Ah. Guarda vi faccio vedere come ho fatto il smoke. Allora. Vi ho messo. Questa skin. Per fucile a pompa. Scusate la mia mira col fucile a pompa che non sono tanto bravo a usarlo. Infatti. Avete visto? Infatti io invece fucile a pompa uso sempre questa qua. Ah mi traghietta secondaria. Allora ho messo queste skin. Che costano? Allora questa qua costa 2.500. Punti fa ma. Eppure quest'altra 2.500. Quindi già stiamo a 5.000 punti fa ma sprecata. Qualcuno mi ha levato un po' di vita però non fa niente. E. E niente ho messo 2.000 grafici che l'ho pagato la bellezza di 250.000. Ragazzi ho visto un video su YouTube che un YouTuber famoso. Non mi ricordo come si chiama. Che comunque stava in grado alto di Rainbow. Mi pare Platino 2. Si è riammesso qui. E aveva fatto full team tutta la squadra. Perché era andata da qua. Ecco io sto a sentire. Ecco ecco io sto a montagna infatti. Ragazzi in uno lo sono fatto. Avete visto? Vado a parare è morto. C'è uno di vita. Meno male l'ho preso. Meno male ragazzi. Ho fatto un salto. Allora. Bellissima ragazzi. Allora se vi è piaciuto il video. Lasciate un mi piace. Condividete. Iscrivetevi al canale. Se ancora non lo avete fatto. Ora andremo a vedere a quante i redditi stiamo. Sono arrivato pure prima in classifica. Dai. Con 10 uccisioni e 1 assist. E solamente 3 morti. Mi raccomando. Dovete iscrivervi al canale. 392 punti fama. Andiamo a vedere a quante i redditi stavano tutto. Cioè mi ha dato quasi. Si mi ha dato 400 punti fama. Vediamo a quante i redditi stavano. 16.357 punti fama ragazzi. Buonissimissimo. Ok ragazzi. Ve lo ripeto. Se vi è piaciuto il video. Lasciate like. Commentate. Condividete. Iscrivetevi al canale. E un saluto a tutti. Ciao.